Il ricco e il povero Un giorno Dio andò sulla terra per vedere come si comportavano gli uomini Durante una notte buia e fredda si travestì da viandante e mentre camminava in una radura vide due case Una era bella e grande con ampe finestre l'altra era piccola e un po' faticente Ormai era tardi e Dio avrebbe dovuto trovare un riparo per la notte Così pensò di bussare alla casa più bella In questa dimora sicuramente abita gente ricca che non avrà problemi a ospitare e sfamare una persona in più Il padrone di casa quando sentì bussare alla porta guardò dallo spioncino e chiese Chi viene da me a tarda sera? Ed io rispose Sono un povero viandante che chiede umilmente un giaciglio per la notte Il ricco squadrò l'uomo da testa a piedi e si infastidì per la richiesta Non posso ospitare nessuno Non ho posto perché le stanze sono piene di verdura e farina Se dessi ricovero a tutti quelli che bussano alla mia porta a quest'ora sarei un poveraccio Andatevene! Dio decise di bussare al portoncino dell'altra casa L'uomo che vi abitava non appena sentì i colpi alla porta si precipitò ad aprirla Buon uomo cosa fate in giro durante la notte? Entrate e riposatevi riprenderete il vostro cammino domani mattina Dio contento del calore e dell'ospitalità entrò La moglie dell'uomo si mise subito a cuocere alcune patate Poi monse la capra per avere anche un po' di latte e disse Non abbiamo molto da mangiare ma qualche c'è lo dividiamo volentieri Cenarono tutti e tre vicino al camino E Dio si stupì della compassione e della generosità di quelle persone Quando fu il momento di andare a dormire il pover uomo disse a Dio Per questa notte vi daremo il nostro letto Noi dormiremo sulla paglia perché voi avete camminato per molte ore e avete bisogno di riposare comodamente Dio rispose che sarebbe stato bene anche sulla paglia Ma i due non vollero sentire ragioni Il giorno seguente Dio dopo aver fatto colazione assieme ai padroni di casa si preparò per partire e disse Siete stati molto generosi e buoni con me Esprimete tre desideri e io vi esaudirò Il povero disse Ho solo due desideri Vorrei che io e mia moglie ci mantenessimo in buona salute e che non mancasse mai il cibo Non saprei cos'altro desiderare Come terzo desiderio chiese Dio Non vorreste cambiare questa capanna con una casa più bella e grande? L'uomo rispose Oh sì sarebbe bello avere una nuova casa Quando Dio se ne andò la casa del povero si trasformò in una splendida dimora nuova con una grande cucina e camere da letto confortevoli Quando Enrico si alzò andò alla finestra e dovette strofinarsi gli occhi più volte per capacitarsi di quel che vedeva La capanna del vicino non c'era più e al suo posto era stata costruita una bellissima casa Chiamò la moglie che rimase a bocca aperta e le disse Vai a chiedere a quel poveraccio cos'è successo La moglie si precipitò dal vicino che le raccontò la storia Quando tornò in casa la donna raccontò tutto al marito e lui imprecò Sono stato uno sciocco se l'avessi ospitato avrei espresso io i tre desideri La moglie lo esortò Sali sul cavallo e raggiungi il viandante non sarà andato lontano Prova a vedere se anche a te darà l'opportunità di esprimere tre desideri Quando Enrico raggiunse Dio lo fermò e parlando con modi gentili e amabili si scusò Buon uomo non ve la prendete con me se non vi ho fatto entrare ma ieri sera ve ne siete andato subito prima che io potesse aprire la porta Se doveste tornare dalle nostre parti vi ospiterò molto volentieri Dio rispose D'accordo se tornerò busserò alla vostra porta Enrico allora lo pregò Prima di salutarci posso esprimere anch'io tre desideri? Certo ma non so se per voi sarà conveniente Andate a casa e i primi tre desideri che esprimerete si avvereranno disse Dio Enrico se ne andò tutto contento Mentre galoppava rifletteva su cosa avrebbe potuto chiedere Distratto dai pensieri per un attimo lasciò andare le redini Il cavallo cominciò a sbandare Arrabbiato gli gridò Brutto cavallo vorrei che ti rompessi il collo Ed ecco che subito il cavallo cadde a terra morto Il primo desiderio era stato esaudito Enrico si caricò la sella in spalla e proseguì la strada a piedi Dopo un po' che camminava il sole era ormai alto e Enrico cominciò ad ansimare accaldato e affaticato pensò che la moglie invece se ne stava a casa beata a cibarsi di ogni prelibatezza così disse ad alta voce Io sono qui a far fatica e lei è a casa tranquilla Vorrei che fosse seduta lei su questa pesante sella e che non potesse più scendere Improvvisamente la sella scomparve ed egli capì di aver espresso anche il secondo desiderio Arrivato a casa trovò sua moglie che piangeva seduta sulla sella incapace di scendere e la consolò Non preoccuparti anche se dovrai stare lì seduta per sempre io ho un ultimo desiderio e ti procurerò quante ricchezze vuoi Cosa me ne faccio dalle ricchezze se devo rimanere qui chiese la donna Tu hai voluto che io finissi sulla sella e ora tu devi farmi scendere Così Enrico dovette chiedere come ultimo desiderio che la moglie fosse liberata Quel viandante aveva ragione sospirò l'uomo Tutta questa faccenda mi ha procurato solo rabbia affanni e ci ho rimesso pure un cavallo I vicini non più poveri vissero invece contenti nella nuova casa e il cibo non mancò mai